Il sindaco De Caro è un atto dovuto, quindi nessuna strumentalizzazione politica. È stato fatto tante volte quando riguardava comuni di centro-destra o comuni di centro-sinistra. È un atto di garanzia e di tutela anche per il sindaco De Caro. Abbassiamo i toni e lavoriamo tutti insieme perché la legalità possa essere affermata nei nostri comuni e nell'amministrazione pubblica. Oggi alla manifestazione di Libera non c'era una presenza del centro-destra da un punto di vista del governo, ma anche della rappresentanza parlamentare. Per quanto riguarda invece la sinistra c'erano leader, rappresentanti. Questa è una lotta che dovrebbe essere a politica e trasversale. Oggi è una giornata importante e proprio per questo credo che si debba dimostrare l'unità di tutti. Per dimostrare questo non è obbligatorio partecipare alla manifestazione di Libera. Ognuno, proprio per la sua cultura, per la sua parte politica, per il valore che ha delle istituzioni che ci accomuna tutti, può scegliere anche modalità diverse. Non è che se non partecipi alla manifestazione di Libera, noi avevamo altri appuntamenti oggi molto importanti. Tra l'altro anche qui in Parlamento allora sei a favore dell'illegalità e non sei contro la mafia. Io credo che su questi temi dovremmo abbassare i toni, non fare polemica, ringraziare associazioni come Libera che si impegnano ogni giorno proprio per non solo la lotta contro la criminalità mafiosa, ma innanzitutto per la prevenzione e la presenza su un territorio. Questo è fondamentale, ma come Libera ci sono veramente tante, tante associazioni che grazie a Dio fanno questo.